Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su questo canale Volevo parlare di Balto Poi ho deciso di cambiare argomento E di andare sul cinema Però un cinema particolare, un cinema molto pop Che sfocia anche in un certo tipo di serialità di serie B Ma ho deciso di parlarne Anzi, ho deciso di lasciare la parola Come al solito sfruttandole in maniera plateale In maniera quasi schifosa Uno degli ospiti più amati di questo canale Quindi io direi di non perdere altro tempo E di andare subito ad ospitare il re E di introdurvi il nostro argomento di oggi Eccoci qua, Willy, Willy Come stai, come stai tesoro? Tutto a posto? Molto bene, buonasera anche a te Grazie mille, buonasera a tutti Vogliamo parlare di mostri Di mostri cinematografici, non solo giapponesi Quindi non solo Kaiju perché no E vogliamo insomma affrontare e consigliarvi anche Le creature cinematografiche E anche coloro che si occupavano di crearle Queste creature cinematografiche Qua in live Quindi ho invitato Willy perché lui è il Il sommo, il massimo esperto di questo argomento Comunque il più appassionato sicuramente di queste piattaforme Allora partiamo da una nota personale Qual è stato il tuo primo incontro con un mostro? Cinematografico Il primo film del genere che abbia mai visto E vale un po' per quelli della nostra generazione È stato un Godzilla Ma non il Godzilla Giapponese Il Godzilla americano del 98 Quello di M Esatto perché io sono del 91 Quindi avevo 7 anni Mi portarono ovviamente da bimbetto appassionato ai dinosauri Mi portarono a vedere Godzilla Al cinema cittadino Della vecchia città dove stavo prima E quindi quello è stato il mio primo incontro con Godzilla C'è stato un piccolo exploit in Italia Dei giocattoli di Godzilla Quindi io Godzilla l'ho conosciuto tramite quei giochi E poi però comunque il primo film che ho visto era quello americano Che come ovviamente abbiamo già detto Era più che un film di Godzilla Un film fatto per sfruttare il successo di Jurassic Park E del seguito di Jurassic Park che era uscito l'anno prima Quindi è per questo che il design è molto diverso Molto più smilzo Molto più come dire In qualche modo simile all'iconografia dei dinosauri che c'era al tempo Prende proprio a piene mani da Jurassic Park nel design Per il semplice fatto che Il mostrare i dinosauri scattanti, veloci Con quella struttura corporea eccetera Penso che il primo film mainstream che l'abbia fatto Sia stato proprio Jurassic Park E quindi diciamo che prende un po' a piene mani con quello Quindi il mio primo scontro con Godzilla è stato quello Però poi dopo ho scoperto il Godzilla velo vero Stavo cercando degli AMV con le canzoni dei Linkin Park Anzi in realtà io non sapevo che fossero Linkin Park Cioè io cercavo AMV generico Mi imbatto in un AMV con Breaking the Habit dei Linkin Park Che è stata la prima canzone che abbia mai sentito dei Linkin Park Che poi da lì mi piacciono molto Che c'era sotto dei pezzi di film di Godzilla Tokyo SOS Quindi siamo già in realtà nella serie molto più recente Quindi non in quella storica E io ho detto boia ma che è sta roba Da lì è cominciato il mio avvicinamento al Godzilla Quello giapponese, quell'originale Sono partito da lì e poi dopo vabbè No allora l'inizio mio è stato all'incirca come il tuo Cioè se non uguale Ma no diciamo che il Godzilla di Honda Non l'ho beccato alla tua stessa maniera Cioè diciamo il brand giapponese di Godzilla Non l'ho beccato alla tua stessa maniera Assolutamente anzi non credevo che ci fossero Delle AMV con i Linkin Park sotto Dedicate a Godzilla Tra l'altro a Tokyo SOS Boh ma chi cazzo l'aveva fatto Ma cazzo Mi piacerebbe sapere Però vabbè No io anch'io ho visto il film di Emmerich Perché anch'io come tutti i bambini della nostra generazione C'eravamo intrippati con i dinosauri squamati Di Spielberg Di Jurassic Park E chiaramente del mondo perduto E questo film si ricalca un po' quel fenomeno lì Addirittura abbiamo anche la replica Dei velociraptor Che sono i figli di Godzilla Che si schiurano dalle uova C'era anche quel famoso cliffhanger Che faceva presupporre un Godzilla 2 Che poi effettivamente non è magico Un'anata è morto lì proprio Un po' bruttino Cioè è brutto il film Soprattutto se lo accosti a Godzilla Perché è tutto sbagliato Esatto esatto Infatti ai giapponesi Piccolo easter egg Non piacque per niente Tant'è che Si incazzarono tantissimo Comprarono poi Molti anni dopo Insomma diversi anni dopo Alla Tristar Che aveva prodotto il film Comprarono quel design Di Godzilla E in modo che non fosse più Accostabile a Godzilla Loro praticamente Tolsero God dal nome E ne fecero un altro mostro Con quelle fattezze Chiamato Zilla Quindi c'era anche Proprio questo smacco Di togliere God dal nome Tant'è che Tra i fan Era noto quel design lì Come Gino Che sta per Godzilla In The Name Molly Vuol dire Godzilla Solo nel nome Nel tutto il resto no E tant'è che Poi questo Zilla I giapponesi Lo hanno pure ficcato In un film che è Godzilla Final Wars Cioè il film del 2004 Che celebra no Il cinquantenario Di Godzilla Ed è credo Il combattimento più breve Di tutta la saga di Godzilla Dura letteralmente Cinque secondi Tipo Godzilla Gli tira una codata Lo sbatacchia Sull'Opera House Di Sidney E poi lo sbarmella Con il coraggio E fine Finito Godzilla Madonna Però sarebbe bello Rivedere un'iterazione nuova L'hanno comprata solamente Per farlo morire In questa maniera tremenda Cioè bene I soldi ben spesi Per i giapponesi Sicuramente Assolutamente Assolutamente In realtà poi Io ho conosciuto Onda L'opera di Onda Grazie a Ghezzi Perché Ghezzi Era molto fissato Con i Monster Movie Con i Kaiju Movie E parlò anche Di Matango il Mostro E Matango il Mostro Era stato girato Proprio da Onda E da lì poi Ho scoperto L'opera di Onda E sono arrivato Al primo Godzilla Anche se Vederli quei film Ai tempi Non era facilissimo Perché venivano comprate Distribuiti da case Molto Di nicchia Per non dire Indipendenti Che stampavano Queste edizioni Un po' Un po' Bruttine Effettivamente Ma che comunque Ti davano il film E ti permettevano Di vedere Non tutti i film Di Godzilla Ma buona parte Sicuramente il primo E poi vabbè Mi sono messo A scoprire un po' Che erano ai tempi Le figure Che creavano i mostri Perché i mostri Non è che Venivano semplicemente Ideati O scritti Su carta Ma poi dovevano essere Creati Anche fisicamente Perché a volte C'era la plastilina Che veniva scolpita Ovviamente Per poi Inserirla all'interno Della pellicola Così da farla interagire Con gli attori In carne e ossa E c'erano Delle figure Molto importanti Ai tempi Ovviamente Non stiamo parlando Dei mostri Come la mummia L'uomo invisibile Enosferatu Dracula Stiamo parlando Dei mostri giganti Proprio I mostri I mostroni Insomma E Secondo me Il primo film Che si può Definire Monster movie Cioè con i mostroni Non tanto appunto Con la mummia Frankenstein Eccetera E' stato Il mondo perduto Ma non quello Di Jurassic Park Ma quello del 25 Perché dentro Come l'animatore Insomma Il direttore Degli effetti speciali Avevamo Willis O'Brien Che tornerà spesso Come nome Accanto alla figura Dei mostri E soprattutto Tornerà accanto Al nome Di uno dei mostri Più famosi Della storia del cinema Ovvero King Kong E Ecco Te l'hai visto The Lost World Willy Sì Tra l'altro Molto bello Perché c'è un In un'edizione Speciale Si trova King Kong Quello del 33 In DVD e Blu-ray E nell'edizione Quella lì Ultimate Perfect Non mi ricordo E si dovrebbe trovare Ancora C'è dentro Anche il mondo perduto Come bonus content Diciamo Quindi Ve lo consiglio Assolutamente Di recuperarvelo Perché almeno C'avete due piccioni Con una fava Davvero Tra l'altro Il mondo perduto Ispirato Ispirato al romanzo Di Arthur Conan Doyle Che fu anche papà Di Di Sherlock Holmes Insomma È stato il primo Lungometraggio Della storia In cui sono stati Visti Dei dinosauri In azione Fondamentalmente Perché a livello Di corto Già qualcosa Era stato fatto Ma a livello Di proprio lungometraggio Quello è il primo Della storia Era ancora Cinema muto Ricordiamolo E quindi parlava Di questa storia Di questo mondo Faboloso In cui c'erano Ancora Sti mostri Preistorici C'era una differenza Nel libro Veniva portato Un obteranodonte Mi sembra A Londra Che poi scappava Imperversava Mentre invece Quello diciamo Del 25 La scena finale C'è un brontosauro Ed è la prima scena In cui c'è un mostro gigante Un animalone enorme Che scorrazza Per una grande città Tutto inizia lì Della scena finale Del brontosauro Che scorrazza per Londra Prima di rituffarsi A punti in acqua E a tornare a nuoto Nel suo regno nativo Poi King Kong King Kong è considerato Ovviamente il capostipide Dei mostri giganti Veri e propri Però si parte da lì E poi non dimentichiamoci Che nel mondo perduto Come in King Kong Willis O'Brien Non creava solo le creature Perché si Le concepiva E dirigeva Gli effetti speciali Ma poi Chi andava a creare Proprio il modello Andava a scolpirlo Andava ad allimarlo Era la sua equip E c'era dentro Anche il messicano Marcel Delgado Che aiutò tantissimo Willis O'Brien Nella realizzazione Di questi modelli Peraltro Non creavano solo I dinosauri Ma chiaramente Creavano anche I set Cioè La città La giungla Insomma Tutto a servizio Poi dell'interazione Tra umani E mostri Secondo te Willi ora Separandosi un attimo Dall'idea Del cinema Ma dei film In particolari Non parlando Del merito Appunto Delle pellicole Perché L'uomo Nel cinema È sempre stato Affascinato Dal descrivere I mostri Cioè dal Mettere in scena I mostri Ma anche Ultimamente Addirittura L'ultimo Godzilla Di Edwards O l'ultimo King Kong School Island Sono andati molto bene Ancora c'è Molto hype Ancora c'è C'è gente che torna Bambina Di fronte a questi Mostri enormi E poi penso Ai dinosauri Che sono sempre state Le creature No Farma spettatori E farma Farma gadget Come mai Secondo te C'è questo fascino Intramontabile Per i mostri Ma allora Secondo me C'è un Per quanto riguarda Per esempio I dinosauri C'è un fascino Secondo me Viscerale Nei confronti Dei dinosauri Che ci portiamo Dietro In realtà Secondo me Da prima Che effettivamente Ci mettessimo A descrivere I dinosauri Perché se guardiamo Per esempio Le prime opere Palli artistiche Che sono state dedicate Al tempo ancora Neanche ai dinosauri A vari rettili marini E rettili volanti Sono questi paesaggi Scuri Con questo mare In tempesta Quasi apocalittici Che in realtà Riprendono A livello iconografico Per esempio Dalle incisioni Di Paradise Lost Di Milton Quindi roba proprio Racconti Di disastri biblici E tutto quanto Quindi in realtà Questa retorica Del mostro Antidiluviano Perché letteralmente Prima Ci si riferiva A dinosauri così Proprio chiamando Le creature Antidiluviano Cioè Prima del diluvio Secondo me Questa è una retorica Molto occidentale In questo preciso Frangente Molto occidentale Molto da uomo Bianco colonialista Secondo me Che in qualche modo Vede diciamo Nella distruzione Del dinosauro Un modo per mettere Le briglie alla natura E in qualche modo Legittimare il proprio posto Nel mondo E come in un certo senso Un po' quello Che abbiamo fatto Purtroppo noi bianchi In tanti paesi Diciamo Del mondo Quando ci siamo arrivati Cioè Si rispecchia un po' Il nostro rapporto Con i grandi predatori Per esempio Come la tigre Il leone I coccodrilli Anche gli orsi Cioè Quando noi Di solito arriviamo In un posto Noi intendo Uomini bianchi Occidentali Dell'età colonialista Siamo arrivati in un posto La prima cosa Abbiamo fatto È fare fuori i predatori Perché era quasi un modo Per dire Qui ci sono io Nel senso E io sono Quello che sta sopra L'ultimo prodotto Diciamo Del creato E quindi Più intelligente Più forte Più degno Più bello Però allora Aspetta È una riflessione Interessantissima Però perché allora Ogni volta Cioè Quindi sono critici Film Cioè Ok che Si vuole manifestare La supremazia Dell'uomo Però è anche vero Che tutte le volte Che un uomo Tenta di portare Un mostro In città Il mostro si ribella E spacca tutto E fa un casino Pazzesco Nonostante poi L'americano arrivi Con la reino E butti Su King Kong Dall'Empire State Building Quindi Da che parte Stanno questi film Sono critici Oppure sono a favore Della supremazia Dell'uomo Rispetto alla natura Beh dipende Dal film Secondo me Per esempio Film Secondo me C'è un'altra retorica Esattamente all'opposto Che invece E di questo Sono pregni Anche i vecchi film Di Godzilla Una retorica Abbastanza ecologista Cioè Come dire Abbiamo fatto il giro E ci siamo resi conto Delle cose Che l'essere umano Ha sbagliato E allora Nel senso Il mostro Diventa un Come dire Un essere Che si sacrifica In un certo senso Per farci capire Forse dove sbagliamo Ishiro Honda Diceva che I mostri Per lui Erano Dei personaggi Tragici Nel senso Proprio Teatrale Del termine Perché loro Sono nati Troppo grossi Troppo forti Troppo potenti Mostruosi Per il resto Del mondo E l'unica reazione Che il mondo Ha nei confronti Di questa cosa Che non può controllare Che non può comprendere È tirargli due missili Infatti Ho visto il discorso E secondo me Stanno un po' In questa zona grigia I mostri Poi chiaramente Noi Come specie Diciamo una specie A cui piace molto Raccontare storie Quindi ci abbiamo Imbastito Storie Su queste cose In modo pazzesco Secondo me Non a caso Il Giappone È un film In cui È parecchio florido Perché comunque Il genere Del Kaijuega Che se vuoi È un po' Un sottogenere Del film Di mostri giganti Volendo Sì anche la fantascienza Categorizzata Sì È nato in Giappone Ma secondo me Al di là Del Godzilla Magari poi ci arriviamo Che c'è il discorso Della bomba Però il Godzilla È in generale Il mostro devastatore Secondo me È una cosa Che i giapponesi Ci sono piuttosto Abituati Perché i giapponesi Non a caso Hanno E questo lo sai benissimo Anche meglio di me Tante storie Sui yokai Che fanno terremoti Che incarnano Tempeste Che sono giganti E vengono dal mare Per distruggere Con inondazioni Perché il Giappone È un posto Che questo Geologicamente parlando È instabile Da bestia Cioè È un posto Che si muove Letteralmente Perché comunque sia La sua geologia È un po' particolare E quindi I giapponesi Hanno dovuto Secondo me Convivere Con i disastri Da sempre Quindi Hanno dovuto Spiegare questi disastri Un po' Con il mostro Cioè quindi Il mostro È una sorta Anche di Semidio Dio Che arriva Distrugge Sceglie Qual è il destino Dell'umanità Nella mitologia Giapponese Oppure Non lo so Potrebbe essere Che ci sia un legame Con il fatto Del disastro Diciamo in Giappone Anche perché Molti dei giapponesi Sono Delle religioni giapponesi Perché lo sai Insomma Sono un po' buddisti Un po' shintoisti Di base Anche cristiani Eccetera Però Anche nello shintoismo E nel buddismo Ci sono delle divinità Che a volte Sembrano dei mostri No Dei veri e propri mostri Che devastano Distruggono Litigano tra loro Un po' come Gli dei Dell'antica Grecia Insomma Chissà Chissà Però è indubbio Il loro fascino Nei confronti Della mostruosità Anche Intesa come potenza Esatto Perché poi In realtà Noi Il mostro Gli diamo sempre La parola Diciamo il significato Brutto Però se noi Andiamo a vedere La parola latina Monstrum Non vuol dire Solo mostro Nel senso Che gli diamo noi Ma anche prodigio Cioè Un mostro È una osa prodigiosa Una osa incredibile Non a caso Magari si dice Quando uno è particolarmente bravo A fare qualcosa E dici Michio Sei un mostro Cioè E viene da lì Nel senso Non ti sto dicendo Che sei orribile Ma ti sto dicendo Che sei un prodigio In quel campo lì Capito Quindi c'è sempre Questa dualità Insomma Difficile Insomma Io poi Non sono un antropologo Culturale Chiaramente Però se questa domanda Alla fine è un antropologo Culturale Cioè perché ci piacciono i mostri Secondo me Ti inizia a parlare Finisce Tra una settimana Poi sai Quando siamo bambini A maggior ragione Forse il mostro È una Perché il mostro Non ha legami No Cioè il mostro Fa quello che gli pare Quindi secondo me Ai bambini piace anche per quello Perché ci si immedesimano molto Perché il bambino Non riesce a parlare bene Non riesce a esprimere Tanto bene A livello profondo Quello che sente I genitori magari O gli adulti Intorno a lui Non gli danno magari Il peso che ha Quindi lui non sa Come esprimersi E vorrebbe Diciamo liberarsi Da questa cosa Quindi non lo so Nel mostro ci si identifica Anche perché Vede una figura Che può fare quello che vuole Che finalmente si fa rispettare Non lo so Va a bole a casa Sì 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 Ma fai bene Si fa per chiacchierare Per parlare Per parlare Certo certo E niente Poi da citare assolutamente Nel mondo dei monster movie americani Bisogna citare assolutamente Ray Harryhausen Che Arriva diciamo Dopo ovviamente Willy Sobrien Che è stato un po' Il suo maestro Possiamo dire E nasce un po' All'interno del film Mighty Joe Young Mighty Joe Young È un altro film Con una scimmiona Che insegue un po' Il mito di King Kong Anzi la trama Non vi dico è la stessa Però diciamo E ricalca un po' Il King Kong originale E si continua così Harryhausen lavorò A stretto contatto Con Willy Sobrien E gli sucompo Tutte le tecniche Infatti poi Ray Harryhausen Fino tra l'altro Credo Agli anni 80 70 80 Continuò a fare Effetti speciali In plastilina A volte con risultati Veramente notevoli Nonostante La grafica Computerizzata Iniziava A infiltrarsi Nel cinema E ovviamente A capitalizzarlo Totalmente E quindi Ecco Veramente Dove Ci sono tantissimi film Da guardare Americani Degli anni 50 40 Con protagonisti Dei mostri Cioè anche Tarantula Per esempio Mamma mia Tarantula È l'esordio cinematografico Di Clint Eastwood Ah Davvero Era Tarantula Ok Sì È praticamente L'ultima scena Si vede per 3 secondi Uno che guida un jet Che ha la maschera Quindi non si vede Neanche la faccia E quello Era Clint Eastwood Ah ok Che non mi ricordavo Fosse proprio l'esordio Bella questa cosa Questa cosa Sembra di sì Sembra di sì Vabbè poi No anche Tarantula è bella Tecnica diversa ancora Lì non c'era più Non c'era più Insomma non si scelse Di fare il modello Del ragno In come dire Con un'animazione Stop motion Ma era proprio Una Tarantula Vera Che fu filmata E sovrimpressa Alla pellicola Quindi anche lì L'effetto Tiene botta A guardarla anche oggi Ci sono un paio Di battute Che dici Ok siamo negli anni 50 Quindi al netto di quelle C'è una scena Dove lui accompagna La biologa di turno Credo sia Dal professore Che ha fatto il ragno Tutti uguali E gli dice tipo Cosa fa E le dice Eh sono una biologa E lui fa una battuta Del tipo Dal quale metto le mani avanti E ci disse ciao Certo Dice tipo Ah le donne Gli dai il voto E loro si prendono la laurea Una cosa del genere Ma ora non ricordi i dettagli Però un'uscita proprio E ti dici Come aspetta Ho sentito bene Io ho sentito bene Quindi ovviamente Prendeteli ogni tanto Per quello che sono Però tra l'altro Negli anni 50 Appunto ci fu Primo il risveglio Del dinosauro Bellissimo Che era animato Da Ray Riausen Stupendo Quello dovete guardare Tra l'altro è importante Questo film Ricordiamocelo per dopo Perché ci servirà Per guzzina Questo film Esatto E poi dopo C'è Ci fu anche Them Che in italiano È assalta la terra Che invece Sono dei formiconi Giganti E lì forse Se vuoi L'esordio Degli insettoni Che poi anche lì C'è Molti film Di mostri giganti Sono su insettoni E simili Chiaramente Di solito Sono rettili e insetti È vero Non si sa Non si sa perché Perché sono quelle Che ci fanno più schifo L'unica eccezione È King Kong Forse Che è più pelosone Esatto E poi Non scordiamoci Perché sarebbe un delitto Non citarlo Soprattutto per me E per te A 30 milioni di chilometri Dalla terra Madonna Ragazzi Lì c'è la scena La scena Meravigliosa Del combattimento A Roma Tra il mostro Venusiano Non mi ricordo Di dov'è E un elefante Che era scappato Tipo dal Dal giardino zoologico Di Roma Comunque Il risveglio del dinosauro Che prima citava Willy Che è del 53 È una versione americana Di Godzilla Anzi possiamo dire Che Godzilla è Prende un po' Il concetto Del risveglio del dinosauro Lo ribalta un po' Lo vede dal punto di vista Cioè Ci viene fatto vedere Dal punto di vista orientale Chiaramente E appunto Nasce Godzilla Però Godzilla Chiaramente è La bomba atomica Cioè l'abbiamo detto Più volte anche qui Io e Willy Cioè Godzilla è quello Godzilla era La bomba atomica Ma invece di metterci La bomba atomica Vera e propria Honda decide di Raffigurare questo Mostro gigante Che chiaramente Si nutre di radiazioni Ed è potentissimo E spara questo Raggio nucleare Insomma Era una critica Molto spietata Possiamo dire Appunto Alla bomba atomica Alla guerra Era un film estremamente Pacifista Ed è molto bello È molto bello Anche oggi Secondo me Soprattutto se lo Contestualizzate In quegli anni È un film Bello Che ancora Con quelle musiche Quei versi di Godzilla Che spacca tutto Anche se è un costume Lo vedi che si aggira In un set Fatto di piccole casupole È proprio bello È proprio bello Ancora C'è un fascino Senza tempo Secondo me Poi non so Cosa ne pensi te Will Penso che Sì ma Ovviamente Ovviamente Tra l'altro Ricordiamolo Di Godzilla Ce ne sono due versioni Perché c'è L'originale Che è quello giapponese Che trovate Al massimo Subbato E quello invece Che è stato Anche doppiato in italiano Era la versione Internazionale Che fu Praticamente Cambiata Quasi del tutto La trama Ci misero L'attore Che era Raymond Burke Quello che faceva Perry Mason E mi sembra Di ricordare E praticamente Rigirarono Completamente Delle scene Con anche Degli attori Asiatici Di Hollywood Per incontrare Diciamo Il gusto americano E quella Versione lì È l'unica Versione di Godzilla Che è circolata Fino in tempi recenti Perché quando poi Distributori Americani del tempo Presero accordi Col Giappone Loro Tra le clausole Ci fecero mettere Che la versione Originale di Godzilla Non sarebbe potuta Girare A livello di proiezioni O supporti Eccetera Fuori dal Giappone Fino a Credo anni 80 Inoltrati O qualcosa del genere Però erano gli anni 50 Quindi vuol dire Che insomma Erano proprio Quindi per tanto tempo Ci siamo occupati Con la versione lì Sono due film diversi Semplicemente E anche perché Il pubblico americano Guarda Un film come Godzilla Quello giapponese Diciamo che Tendenzialmente L'hanno fatto Perché non c'erano più Gli americani in Giappone Che si levarono di culo Dal 52 Dal 45 Era finita la guerra Perché poi c'è stata Tutta l'occupazione Ovviamente Occupazione Che limitò In un certo senso Pur senza riuscire Del tutto a contenerla Anche la rinascita Culturale giapponese Perché? Perché c'era la censura Ovviamente Giapponesi ce l'avevano Giustamente gli americani Però Quindi questo prodotto Non avrebbe mai visto La luce Se gli americani Non fossero andati via Dal Giappone Infatti appena Andaron via Il Giappone Cominciò ad avere Un po' Tutti i suoi riconoscimenti Anche a livello artistico Cinematografico Basti pensare Al film di Kurosawa E tutto quanto E quindi poi Ci fu il coraggio Di dare Questa sfumatura A Godzilla Perché in realtà Come hai detto Era nato Un po' come il remake Del risveglio al dinosauro In cui c'era L'elemento atomico Ma Era meno critico Meno politico Secondo me Il risveglio al dinosauro Vabbè Comunque Sappiate che Godzilla Nonostante sia partita Come un'opera Appunto Di denuncia Politica Sociale E tutto A un certo punto C'è stata una deviazione Una trasformazione Una mutazione Anche abbastanza inquietante Perché Sì I primi film Potevano essere critici E tutto Poi è diventato Sempre più assurdo Il brand Cioè Godzilla Combatteva contro versioni Di se stesso Meccaniche O altri mostri Che poi venivano presi E venivano Utilizzati per film Spin off Addirittura serie di film Spin off C'erano nuovi mostri Onda ne creava Ne sfornava All'infinito Insomma E poi addirittura Sono diventati Dei tokusatsu Cioè fatti infiniti Dei film Per ragazzi Per bimbi Dove Godzilla Doveva sfidare Il classico mostro Mandala a casa E vaffanculo Addirittura Godzilla Da figura negativa Da mostro inquietante Con la pelle Si scioglieva Per la radiazione Della bombatomia Era diventato Un eroe Cioè Gli mancava solamente La moto Arrivava Come il camera rider E poi Avevamo fatto Insomma Addirittura faceva Cioè veramente Le mosse di wrestling Volava Cioè delle cose Dei salto Calci volanti Scelciola della roba Abbastanza stramba Ecco per Godzilla Però anche quello È il suo fascino Secondo me Un po' più giocattoloso Poi sempre Un'isola deserta Si si risparmiava Sui set Eh certo Certo Fantastico No poi perché Loro facevano film In teoria I filmi Rifacevano per gli adulti Poi quando Capiron che li guardavano Soprattutto bambini Tararono Diciamo Il prodotto Per il target Minilla Via ragazzi C'è stata della roba È palese Quello lì è proprio Per mettere Un come dire Un modo per identificarsi Al bambino E essere dentro Al film Capito È proprio palese La cosa lì Bellissimo Io voglio parlare Di un periodo strano Fighissimo Che poi ci porta All'era moderna Che sono gli anni 70 Cioè post squalo Ed è una fase Divertentissima Perché Non è Non si sta parlando Di mostri giganti È più una roba Appunto Non alla franchise È una via di mezzo Cioè I monster movie Con gli animaloni Grossi Questo è un po' Il senso Sì 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 E nel 75 Spielberg decide Di produrre Un filmettino Proprio piccolo Che non ha fatto Per niente rumore Che si chiama Lo squalo Proprio E Spielberg Non se ne è accorto Ma ha dato Il via A un filone Tremendo Cioè Veramente Sequel dello squalo Filmacci Con tutte le creature Marine possibili Ti ricordi anche Piragna Piragna Che è di Cameron Barracuda anche Barracuda Barracuda Ma c'era di tutto Sì sì c'è Barracuda Addirittura ci sono Dei film sulle orche Di cui uno Mi sembra che sia italiano Quindi c'è proprio Il filone Del shark movies O simili Che è un sotto Filone Dell'eco vengeance Se vogliamo Che è un po' Questo filone Degli animali assassini Che hanno un po' Questo discorso Spesso e volentieri Di base Della natura E si ribella Insomma Ma neanche sempre In realtà Quindi sì Ma te questa roba Non sta un po' Sul cazzo Cioè Non è che Non è che L'uomo viene terrorizzato All'infinito Cioè Io mi ricordo Quando uscì lo squalo Tutti avevano paura Di far bagno nell'acqua C'è una cosa Forca troia Far bagno nell'acqua No la risposta Senti questa frase La risposta Bagno in mare Volevo dire Nell'acqua No In realtà ci sono due risposte Cioè è difficile Che lo squalo Ti resti indifferente Come film In genere ci sono due risposte emotive Che puoi avere agli antipodi Uno è O vengo terrorizzato dagli squali Oppure che figata dagli squali Non c'è via di mezzo Secondo me Io per esempio Sono diventato Ah che figata dagli squali La mia compagna è diventata Terrorizzata dagli squali Cioè proprio Noi siamo poi due Esempi secondo me Di quando vedi lo squalo Che hai dieci anni O così E molti hanno detto Che ricordiamo Lo squalo è ispirato A un romanzo Di Peter Benkley Che si è molto sentito in colpa Dopo aver fatto lo squalo Perché tanti hanno detto Eh lo squalo Ha fatto venire Diciamo il terrore Degli squali alle persone Tant'è che questo è un problema Amali quello di conservazione Per gli squali Che sono degli animali Che sono minacciati Dalle attività umane In modo mostruoso In realtà secondo me È un discorso un po' semplicistico Nel senso che gli squali L'uomo L'essere umano Gli ha sempre odiati In grosso modo Cioè ci sono anche dipinti O racconti eccetera Di squali che mangiano persone Ma da ben prima del 1975 Quindi gli squali mai hanno avuto Buona nomea Salvo in particolare Contesti culturali Che però non ci toccano Secondo me Ci sono tante persone Che per colpo Tra virgolette Dello squalo Sono diventate biologi marini E biologhe marine Invece che Qui guardiamo Il lato positivo Di Enzo Sì sì E poi ragazzi L'abbiamo già citato Gli anni 90 Dopo comunque un periodo Di film di serie B C, Z Su mostri marini E quant'altro E anche robe comunque Molto carine Che sono uscite Tra gli anni 70 E gli anni 90 Ovviamente nel 93 Esce Jurassic Park E lì si affronta il monster movie Americano in maniera un po' diversa Nel senso che non erano mostri inventati di sana pianta Ma erano mostri Per modo di dire Cioè creature Giganti Mangia uomini O comunque mangia carne E erbivori Che erano veramente esistite nella preistoria Ovvero i dinosauri Solo che Spielberg Chiaramente fa questo Thriller horror Possiamo dire Molto anche d'azione Dove Il T-Rex Diventa un po' Il simbolo Di quella generazione Di quel decennio Cinematografico Per quanto concerne Il monster movie Cioè il T-Rex Era Una figura O anche il velociraptor Una figura molto vicina A King Kong Molto vicina a Godzilla Molto vicina a tutti i mostri Che abbiamo citato in precedenza Era un vero e proprio mostro Nonostante fosse un dinosauro Cioè una creatura Che effettivamente Di cui abbiamo delle testimonianze Che sappiamo che è esistito Sulla nostra terra Spielberg lo sapeva tra l'altro Tant'è che Il cancellone Di quando loro entrano È pari pari Quello da cui esce King Kong È vero È vero Tant'è che Malcom dice Quando ci passano sotto Ma che ci tengono qua dentro King Kong È proprio Una citazione Proprio messa lì apposta E no È bello Jurassic Park Perché io penso Che sia stato il primo film Che abbia fatto vedere Il lavoro del paleontologo Sul campo In un modo Tutto sommato Abbastanza simile A com'è Perché la figura Del paleontologo C'è nei film di mostri Dove c'è un mostro preistorico Il discorso è questo Chiedono al paleontologo Perché non sa neanche chiedere E questo lui dice Ah sì È chiaramente Finita la parte del paleontologo Mentre invece Jurassic Park Ti fa vedere Proprio Il paleontologo Chino Sul Come dire Sul terreno Che scava Che cosa le ossa Vi dico Non è così facile In genere Le ossa dei dinosauri Sono nella roccia Consolidata E non sulla sabbietta E se fa così Vengano fuori Però a parte questo Non penso che prima Di Jurassic Park Qualcuno Avesse fatto E poi Erano dei dinosauri Che perlomeno nel primo Prendevano proprio spunto Dall'iconografia Anche scientifica Più nota Del tempo Nella loro Ricostruzione La policonografia Giuralsic-Parchiana È quella di Gregory Paul È uno degli artisti Dei paleo artisti Più prolifici In assoluto In quegli anni E più noti In assoluto In quegli anni Se avevate L'enciclopedia Della di Agostini Quella in fascicoli Sui dinosauri Lì c'era Diversa roba Diversa roba Di Paul C'era Comunque Paul A suo modo Ha dato il là A un certo tipo Di ricostruzioni Di dinosauri Che venivano Dal cosiddetto Periodo del rinascimento Dei dinosauri In cui i dinosauri Per distaccarsi Dalla Raffigurazione Così letargica Stupida Lenta Che gli si era Sempre affibbiato Diventano A quel punto Molto veloci Scattanti Magri Troppo magri In realtà Tanto è che Adesso vengono ricostruiti Con più cicci addosso Perché in quel modo Cioè i muscoli a vista Non ce li avevano Buone bestie Però nel senso È molto forte Che in realtà Era un modo Per venire incontro Al pubblico Che gli piaceva La roba più dinamica Più feroce Più veloce Eccetera Ma anche per far vedere E parlando Del contesto scientifico Che il paleoartista Aveva fatto i compiti A casa Perché ti faceva vedere I muscoli Che erano messi Tutti nel posto giusto Diciamo Quindi era una cosa Una cosa del genere Interessante Perché appunto Anche Godzilla Nella sua iconografia Originale Trae spunto Dalla paleoarte Del tempo Che è Il Il Murales Dello Due dinosauri Di questo Murales Che i designer Giapponesi Avevano visto In un numero Del 53 Di una rivista Generalista Che si chiamava Life Presero il tirannosauro Per l'aspetto Diciamo così Feroce La posa Eccetera Che tra l'altro Era anche Compatibile Con Un cristiano Che doveva indossare Un costume Chiaramente E farlo quadrupede Era un po' Più difficile Poi li hanno fatti Anche quadrupedi Ma diciamo Dopo E poi ovviamente Presero anche Dallo stegosauro Che era un altro Protagonista Di questo Murales Nella sezione Del giurassico Che Per cui appunto Le creste Diciamo Dietro la schiena Di Godzilla Riprendono proprio Dalle placche Dallo stegosauro In più Gli diedero i braccioni Dell'Iguanodonte Di un altro Artista Notissimo Al tempo Era Znedek Burian Che anche lì Libri vecchi Sono zeppi Delle illustrazioni Burian Che sono dei quadri Meravigliose E c'era questo Lasse guanodonte Con i braccioni Messo a canguro Godzilla è la fusione Di questi tre dinosauri E Vuoi per l'esigenza Del costume Ma anche proprio Per come si credeva Che fossero Dinosauri al tempo E' uscito in quel modo Se noi Godzilla Lo facessimo oggi Con questi tre dinosauri Ma ricostruiti In modo aggiornato Come si sa Come si suppone Siano Ad oggi Viene fuori una creatura Completamente diversa Quindi anche quello Mi piace Perché è lo specchio Diciamo anche Di un certo modo Di raffigurare Dinosauri Contestualizzata Come il periodo E poi vabbè C'è il periodo moderno Di mostri movie interessanti Io Voglio citare Cloverfield Perché comunque La telecamera Il mockumentary Funziona Parecchio E' un film Che tutto sommato Mi è piaciuto C'è stato Il Godzilla Di Edwards Che ho già citato prima Che mi è piaciuto tanto Io Mi è piaciuto anche A giapponesi Mi è piaciuto anche A giapponesi Che hanno rosicato E l'hanno dovuto Chiama Hanno Per Fashing Godzilla Che mi è garbato Tantissimo Ci mancherebbe altro Anche se Proprio si vede Che sono due visioni Differenti Cioè Quello di Hanno Un film molto dialogato Dove c'è E' proprio Evangelion Cioè Strategia 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 E poi azione Tutta in fondo Quando Godzilla Raggiunge il suo stadio finale C'è la trasformazione L'evoluzione Molto Hanno Quella roba di Figa Edwards invece Propone una visione diversa Molto americane Militari Incazzatineri Però allo stesso tempo Non sono militari Tutti rincoglioniti Ma sono Dei militari Che No in realtà Sono rincoglioniti Però uno no Ecco questa è un po' La visione Aaron Taylor Johnson Un po' meno Ed è bello Perché c'è il parallelismo Tra la creatura Quasi divina E l'umano Che in un certo senso Cercano di ottenere Qualcosa E la ottengono insieme Però allo stesso tempo Pagano lo scotto Di raggiungere Il loro obiettivo È molto bello Perché un po' Come il film di Honda Il Godzilla Si vede poco E quando si vede Esplode Esplode molto Molto dopo L'inizio del film E infatti Ho apprezzato Questa scelta Perché secondo me Ad oggi I mostri movie Vanno fatti così Cioè far salire Piano piano L'hype Nel pubblico Fino all'esplosione Totale Soprattutto Devono raccontare qualcosa Cioè non deve Arrivare il mostro E semplicemente Spacca tutto Trovarsi davanti Muto E ammazzali Squoiali Subito Ci deve essere Una costruzione Devono trasmettere Qualcosa Devono simboleggiare Qualcosa Questi mostri Se no Sono semplicemente Pezzi cari Che si pionano a pizze Va benissimo Apprezzo anche Quella roba lì Però Non c'è Non c'è evoluzione Nel sottogenere Non c'è Una progressione Cloverfield L'ha fatto Questo ragionamento L'ha fatto Secondo me Anche il Godzilla Di Edwards L'ha fatto Shin Godzilla E poi non so Se vuoi citare Altri film Che ti hanno stupito Negli ultimi Dieci Vent'anni Sì Secondo me Allora Il film di mostri giganti È una cosa Che bene o male va Incontra molto Il pubblico Generalista Che li facciano I film d'azione Vedi appunto Nell'ultimo Godzilla Contro Kong Hanno deciso Addirittura Di neanche fare Le inquadrature Come abbiamo fatto Nel film precedente Magari dal basso Verso l'alto Per dare al visuale Della persona O comunque Un po' di fumo Per nascondere No no Lì proprio Tutto campo Vedi benissimo tutto O pieno giorno O comunque Tutto illuminato Vedi gli schianti E quindi Questo è un film Molto visivi Chiaramente Però è un altro Approccio completo Secondo me La gente Pensa che come genere Il film di mostri giganti Sia morto In realtà Secondo me No Primo perché Lo dimostra il fatto Che lo stanno ancora facendo Però secondo me È un genere Molto ancora poco esplorato In quello che può dare Poco capito Secondo me Dai registi Per esempio Del toro con Pacific Rim L'ha capito parecchio Secondo me Cioè ha capito Pacific Rim Con tutto quello E poi dire Però è una dichiarazione D'amore A questo genere Anche a Evangelio Dichiarata Palese Sì perché Comunque lui Addirittura dice Alla fine C'è il ringraziamento Dalla fine Di sito di Coda Da Ishironda E Riausen Per aver creato Questo genere Aver No quindi C'è proprio una dichiarazione D'amore forte Da parte del toro Secondo me però La gente non ha capito Intendo i registi Non ha capito Che il mostro Lo può usare Per fare tante robe Cioè Non è che devi fare Per forza Un film Dove arriva il mostro Spacca tutto Alla fine ammazzi Oppure eccetera Puoi costruirci Un sacco di roba Interessanti Vedi Cloverfield Cloverfield è un genere Cioè il mockumentary Che non era mai stato usato Per fare un film Di mostri giganti L'ha usato È un bel film Tra l'altro questa cosa L'hanno pure ripresa Di recente In un altro film Che si chiama Troll Hunter Bellissimo Che è abbastanza carino Anche a me è piaciuto Abbastanza carino A me è piaciuto È un po' Un film alla Cloverfield Sempre con questi mostroni In questo caso Dei troll Ci sono altri film Che hanno esplorato Via Utilizzando Praticamente i mostri giganti Più come pretesto E come protagonista Uno È un film Che è passato Mega in sordina Ma secondo me È interessante Perché Che secondo me Nessuno ci aveva mai Pensato di usare Un mostro In un film del genere È Colossal Non so se No quello non l'ho visto Non so di cos'è È un film dove c'è Hannah Hathaway Come protagonista Tra l'altro E lei praticamente Scopre Di essere legata A livello Mentale Ad un mostro Lucertoloso Lucertoloso Non proprio Diciamo un mostro Rettiliano gigante Che sta distruggendo Credo Seul O qualcosa del genere Lei scopre Che c'è un Legame Tra lei E questo mostro gigante Senza spoilerare Troppo Il mostro gigante Non è il centro Del film Il mostro gigante Si vede ogni tanto Ma non guardatelo Con l'ottica Di vedere un film Di mostro gigante Dove c'è combattimento Eccetera Però il mostro gigante Viene utilizzato Per mettere Diciamo In scena Le relazioni Amorose Malate Tossiche Ok Praticamente E non vi dico altro Perché se no Non vi voglio spoilerare Nel caso Ve lo vogliate vedere È interessante Perché questo Ha utilizzato Il mostro gigante Come pretesto Per parlare Di relazioni amorose Tossiche E quindi Anche questo È molto strano È un po' strano Perché Non è il classico Modo di utilizzare Il mostro gigante Però secondo me Ora vanno utilizzati Non dico solamente Ovviamente Però anche così I mostri giganti Perché li puoi usare Come espediente Per raccontare Virtualmente di tutto Secondo me E ci sta Nel senso Quindi ti direi Degli ultimi prodotti Degli ultimi anni Appunto più innovativi Ti direi Appunto Il 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 clover film Sicuramente Questo Pacific Rim Per i suoi motivi Sì Anche il Godzilla Di Di Emmerich Che se Appunto volete Lo accostate A un altro filmone Che è appunto Shin Godzilla Per vedere Proprio due Incarnazioni di Godzilla Che sono diametralmente Opposte Anche come design Come concezione Anche come regia Perché tendenzialmente Se bisogna Come dire Involare una persona Che è digiuna Di questi film Totalmente E vuole appassionarsi Al genere Io personalmente Non gli consiglierei Di guardarsi subito Il Godzilla 54 Perché se hai Completamente digiuno Di questo tipo di cose Ci sta anche Che non gli piaccia Capito Quindi secondo me Ci sono dei buoni punti Di partenza E secondo me Poi da lì Quando capisci un po' Il genere Se ti piace Se ti inclusisci Allora ti vai a recuperare Poi I classici Sono d'accordo Non si può partire Dal King Kong del 33 Cioè lo puoi fare Ma è È un po' Piuttosta Tra l'altro King Kong King Kong del 2005 Anche È vero Quello di Peter Jackson Sì che non è male Per niente Tra l'altro Tre cose Il King Kong del 33 È disponibile in Italia In un'edizione fantastica In Blu-ray Che ha fatto la D-Nit Tra l'altro Che stampa di solito anime E però ogni tanto Spara fuori queste chicche Non so perché Dove dentro c'è un booklet Fantastico E un boato Di contenuti speciali Che vi aiutano a capire King Kong A 360 gradi È quello lì Che dicevo È quello lì Che dicevo Prima Ce l'ho Cioè in quell'edizione C'ho io Che è quella Speciale eccetera Numerata C'è addirittura Una riproduzione Del De Plian Che avevano messo Nella prima italiana Di King Kong Sui sedili del cinema Delle persone Andavano a vederlo Per la prima volta E c'è tipo La presentazione dei film In toni altisonanti Ovviamente non è quello originale È stampato Però Bellissimo La chicca Da particolare Sì 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 Va bene Willy Io ti ringrazio Del tuo tempo È stata È stata una cavalcata Interessante Perché comunque Siamo partiti da Dar 25 Siamo arrivati a oggi Certo ci sarebbero Milioni di cose da dire Milioni di film Da cittare In più Però abbiamo voluto Dare una scorsa Generale A questi mostroni Che ci fanno sempre Battere il cuore Ora vediamo che cosa succede Con i prossimi film Anche perché c'è Un universo narrativo Anche qui Che piano piano Si sta costruendo E con film Medi Buoni Bruttini Eccetera Vediamo che succede Vediamo Dai Willy Ciao Grazie mille Buonanotte a tutti Buona serata Ciao 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 Grazie a tutti.